Eccomi qua, il momento è delicatissimo e molto 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 difficile, io la farò breve. Voglio innanzitutto ringraziare tutti, dagli amici a voi che mi seguite, del sostegno, l'affetto che mi avete mandato, mi avete dato tanta tanta forza. Ovviamente non scenderò nei particolari perché in questo momento ci vuole rispetto per la coppia. Però è arrivato il momento che anch'io reagisco, nel senso ho fatto l'eremita questi giorni, sono fatto così con un carattere un po' chiuso, ma non devo. Quindi bisogna reagire e riprendere tutto ciò che si stava facendo prima, ovviamente con la speranza che poi qualcosina si possa aggiustare. Ecco, quindi detto ciò, adesso è una bella doccia e si ricomincia. Ciao!